Ciao, sono Luana. È vero che sono spiata dal mio computer anche quando questo è spento? Grazie. È vero che è possibile essere spiati dal proprio computer anche quando è spento. Non lo sappiamo. Per ovvi motivi, ma il computer come il telefonino e tutti gli altri strumenti elettronici e anche gli apparecchi televisivi, o in ogni caso certi apparecchi televisivi, hanno la capacità di essere accesi a distanza, quindi contengono dei microfoni, contengono delle telecamere, di essere accesi a distanza e di quindi ascoltare quello che si dice o si fa davanti allo schermo senza che noi ce ne rendiamo conto. Non vuol dire che succede, ma il potenziale esiste. Grazie a tutti.